Ciao a tutti, con me Mr. Fleamino e io vi lascio sentire un altro progetto, un nuovo progetto che ho iniziato questa settimana e il nome magari sarà Funky Love, ho aggiunto come questo ma non sono sicuro e non dimenticate di ascoltare tutte le mie musici su Spotify ogni mese con il nuovo disco disco funky e il settembre, il settembre 17, ho un nuovo album sorpresa per voi e poi un nuovo album per il prossimo anno ok, questa è la track, spero che ti piace è con il piano, andiamo a vedere questo è il primo piano questo è il primo piano e questo è il primo piano questo è il piano il piano il piano il piano This one. questa è la sintetica principale è come summer vibe poi un altro sintetico poi un altro sintetico un altro sintetico questo è il trame live registrato sì, questo è il track della settimana come ogni settembre spero che ti piace non dimenticate di lasciare o di iscrivervi a questo canale Mr. Piramino e vediamo la prossima con un altro video ciao 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 ciao